Ciao a tutti ragazzi, un saluto da parte di Bianco Nero Man e buona serata a tutti quanti. Allora, manca poco più di un'ora alla partita, Juventus-Celsi, io stacco dal lavoro quindi ancora non so la formazione titolare piccionamente, quindi adesso che andrò a casa la vedrò, però voglio dire una cosa che sono molto 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 fiducioso questa sera, penso che faremo una bella partita, penso che la Juventus a qualche punto a casa lo porterà, secondo me, e vedo proprio, sono fiducioso, sono fiducioso e poi alla fine della partita ci risentiremo per un altro video, sperando di potervelo fare un video di felicità, diciamo, e non tra virgolette triste, ecco, mettiamola così. Due paroline sulla giornata di ieri sera di Champions League, ma nel 2015, se non sbaglio, Kakir era un bell'abito, vero? Era un fenomeno come abito, vero? Quando non ci diede quel calcio di rigore su Pogba, io dico sempre che il karma, il karma c'è sempre, e ieri Kakir, quell'abito che nel 2015 era un grandissimo arbitro, eh, avete visto cosa vuol dire? Avete visto cosa vuol dire vedersi scippare un risultato positivo dopo che il Milan comunque ieri ha fatto una buonissima gara, giocata per 60 minuti in 10 contro 11, avete visto cosa vuol dire? Il karma, ragazzi, il karma esiste. Detto questo, vi saluto, vi auguro una buona serata, vi auguro una buona partita, forza Juve, forza Juve, forza Juve, e da Bianconer Man un abbraccio. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!